Musica Maturità oggi la seconda prova, licio classico la versione di greco con l'etica nicomachea di Aristotele, allo scientifico anche lo studio di funzione. Cambierà volto il porto di Palermo che sarà diviso tra turistico e commerciale. Anche Bagherì è protagonista nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura di Manifesta 12. Buonasera, ben trovati alla prima edizione di Media News di giovedì 21 giugno in apertura. Ci occupiamo degli esami di maturità, oggi la seconda prova, licio classico la versione di greco con l'etica nicomachea di Aristotele, mentre allo scientifico anche lo studio di funzione. Vediamo. Seconda prova oggi degli esami di maturità specifica per ogni indirizzo di studi. Gli studenti del liceo classico hanno affrontato la versione di greco. L'autore scelto quest'anno è stato Aristotele. Il brano è stato tratto dall'etica nicomachea, una raccolta di appunti del filosofo greco, la sua opera più importante che può essere considerata il primo trattato sull'etica che fu scritta in più di dieci anni. Per il liceo scientifico la seconda prova è stata quella di matematica, composta da dieci quesiti e due problemi. Il maturando ha scelto cinque quesiti e un solo problema da svolgere. Il primo riguardava il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione industriale di mattonelle per pavimenti. Il secondo invece è più tradizionale lo studio di una funzione. Al liceo delle scienze umane è uscita la traccia diritti umani e principi democratici. Nella prova un brano di Conrad Kotak da antropologia culturale e di chiosso dai significati dell'educazione, teorie pedagogiche e della formazione. Per gli istituti tecnici a indirizzo elettronica e elettrotecnica la seconda prova è riguardata il funzionamento dei sistemi automatici. I maturandi hanno svolto come compito lo smistamento dei prosciutti in un'azienda. Per gli istituti tecnici ad indirizzo informatico la seconda prova è stata svolta su sistemi e reti, la progettazione di un sistema di gestione per una società di spedizione pacchi attiva su tutto il territorio nazionale. Il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti ha annunciato oggi la ripresa dei lavori alla stazione marittima del porto di Palermo. Vediamo. La parte più a sud del porto, dal molo San Muzzo fino al molo Piave, dove il 27 giugno verranno giù i silos del grano, inizieranno le operazioni di demolizione, sarà destinato a crociere e a passeggeri. La parte a nord sarà destinata al carico, quindi alle merci, ai trailer semi guidati e guidati e al traffico contenitori, che poi sarà trasferito sul porto di Termini Merese. Questo vale per il porto di Palermo, vale anche per gli altri tre porti del network per quanto riguarda le crociere. Siamo sulla stazione marittima, quindi oggi in conferenza stampa lanciamo l'inizio dei lavori di riqualificazione, quindi ristrutturazione della stazione marittima dopo aver ottenuto il dissequestro del Moro Vittorio Veneto, questo sul quale oggi siamo, e sulla parte invece di interfaccia porto-città avrete visto che abbiamo già demolito molte strutture fatiscenti, continueremo con l'opera di demolizione di tutte le strutture che vanno dal bar fino alle biglietterie della GNV, verrà un giardino fiorito con la riqualificazione del varco Amari, perché? Perché l'idea che si vuole dare è che Palermo e Porto di Palermo siano un unicum da offrire a chi ha il piacere di visitare una terra così bella. I tempi sono la demolizione e la ristrutturazione, parte il progetto esecutivo, quindi siamo in conferenza stampa, per cui fra un mese ci daranno il progetto esecutivo, partiranno i lavori, hanno 720 giorni per concluderli, con tutte le penali del caso, per cui due anni dall'inizio dei lavori, la parte delle demolizioni continueranno perché le stiamo iniziando, il 27 dopo aver nell'ultimo mese e mezzo smontato tutte le strutture in ferro, la demolizione dei silos partirà il 27 di questo mese, quindi fra qualche giorno, e il dragaggio del Porto di Palermo, il 27 siamo al Ministero per la firma per il tavolo Ali, il 12 luglio firmeremo la convenzione per i famosi 120 milioni di cui ieri abbiamo parlato in conferenza stampa con il prefetto per la firma del protocollo di legalità. Le opere cammineranno insieme perché stiamo realizzando il molo di sovraflutto e di sottoflutto, quindi le barriere a mare a Termini Merese, stiamo agendo adesso in pianificazione e progettazione su Trapani e su Porta Empedocle. La nostra idea di porti siciliani è innanzitutto un'opera di riqualificazione degli stessi perché l'intendimento che noi abbiamo di porto è di porta di accesso a mare, soprattutto per il turismo da mare. Di fatto nel periodo dei lavori cambierà qualche cosa per l'accoglienza? Beh sì, quando avvengono lavori abbiamo una struttura provvisoria che abbiamo rimesso in piedi, che da qui si vede che alle spalle del terminal certamente ci saranno dei disagi iniziali e abbiamo con tutte le istituzioni, con l'autorità marittima, con la Dogana, con tutti quanti, abbiamo lavorato insieme per cercare di rendere meno problemi possibili agli operatori, a chi opera nel porto di Palermo in particolare, ma devo dire che c'è una bella sinergia tra tutti e quindi sono convinto che comunque si riusciranno a realizzare tutti i lavori, così come stiamo facendo e nessuno se ne è accorto, insieme con l'operatività dello scalo. L'AMAT dalla votazione del consolidato esce con promessa e con una nota si dice pronta a riconsegnare il tram. Non credo sia il caso di aggiungere altro se non di bloccare immediatamente le nuove linee del tram. Lo ha detto il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che ha parlato anche della situazione delle casse del comune di Palermo. Vogliamo sapere al 2017 qual è l'altro punto di partenza perché prevediamo che questi 42 milioni di euro siano destinati con il 2017 dentro a crescere e soprattutto riteniamo vergognoso che a giugno del 2018 noi non conosciamo ancora qual è il bilancio di previsione dell'amministrazione per il 2018. Cioè siamo a giugno, sei mesi sono trascorsi, ma noi non sappiamo che cosa l'amministrazione intende fare per ripianare quei 42 milioni di euro e per gestire l'ordinario e le spese verso le quali ogni mese ci sono degli obblighi di legge. Tant'è che la regione siciliana con la circolare numero 10 proprio del 2018 sta mettendo in mora il comune di Palermo dicendo devi presentare immediatamente il bilancio consuntivo del 2017 e il previsionale del 2018 perché il passaggio successivo è il commissariamento. Siamo in una fase complicata del comune ma noi non disperiamo perché conosciamo questi numeri, li abbiamo sempre raccontati anche durante la campagna elettorale, c'è chi li nascondeva e li occultava facendo la vita della cicala, noi ci siamo preparati invece a gestire la città come le formiche e oggi abbiamo le risposte ai tanti problemi di questa città perché avevamo beccato per tempo l'analisi, avevamo diagnosticato il giusto e abbiamo le ricette per far uscire questa città dal baratro. E' chiaro che però chiediamo una mano al Consiglio Comunale visto che l'amministrazione non pare interessarsi delle sorti reali del comune e quindi chiediamo a tutti i Consigli Comunali anche di maggioranza di confrontarsi seriamente sulle nostre proposte e di trovare dei punti di unione per il futuro dei nostri figli. Ma per quanto riguarda le partecipate sono seriamente a rischio? Assolutamente sì, in testa l'AMAT che non riesce a trovare le somme per gestire le tre linee del tram attuali e quindi mi sembra una follia che questa amministrazione pensi di realizzare addirittura altre 6. Se non trovi 9 milioni di euro per il 2018 per pagare il tram che già hai e se ti è dimostrato che la ZTL che tu hai imposto ai palermitani rispetto ai 30 milioni di euro che tu avevi previsto di entrate ne porta a casa solo 2 milioni e mezzo e a fronte di questi 2 milioni e mezzo io mi chiedo quanti milioni di euro abbiamo perso in termini di piccole attività commerciali che c'erano durante e dentro la zona della ZTL. Se ti mancano 9 milioni di euro per queste tre linee del tram, altre 6 linee del tram, te le puoi permettere? Può essere una bella suggestione, io vorrei la metropolitana, vorrei l'automatica leggera, persino la funivia, ma ce la possiamo permettere? I conti del comune ci dicono di no e io prevedo che il bilancio 2017 di AMAT chiuderà con 6 milioni e mezzo di euro di perdita nel 2017 e che 9 milioni di euro di perdita li abbia già accumulati nel 2018. Nella giornata mondiale del rifugiato attivisti siciliani di Amnesty International hanno organizzato un flash mob di sensibilizzazione e informazione a Palermo davanti il Teatro Massimo. Amnesty International e i gruppi di Palermo hanno pensato di dover essere presenti in un momento così difficile e delicato che l'Italia sta affrontando per manifestare la nostra solidarietà non solo nei confronti di tanti migranti che giungono costantemente alle nostre porte, ma anche in supporto delle tantissime organizzazioni non governative e associazioni che lottano in loro favore e che per questo vengono criminalizzate. Noi siamo qui perché vogliamo dare un esempio alla nostra comunità e all'Italia intera. Palermo è una città dell'accoglienza da sempre. Palermo ed è bello dirlo, è tutto porto e noi in questo teniamo a mantenere l'apertura non solo dei nostri porti ma anche dei nostri cuori e della nostra solidarietà. Proviamo a manifestare oggi in questo modo la nostra presenza e la nostra vicinanza a tutti. Oggi è la giornata internazionale del rifugiato e dei suoi diritti, però visto il clima che riguarda anche i migranti in generale, cogliamo l'occasione per ricordare alla nostra cittadinanza l'importanza della tutela dei diritti umani. Purtroppo questi vengono disattesi soprattutto per quanto riguarda i migranti in questo momento in ogni parte del mondo, se pensiamo ai bambini messicani chiusi in gabbia, e fino in Italia, visto le ultime dichiarazioni e visto le ultime azioni del governo italiano che deve assolutamente garantire insieme ovviamente a tutti gli stati europei la tutela dei migranti, la loro salvaguardia e il loro diritto ad avere una vita che sia piena, soddisfacente e realizzata. C'è poca chiarezza a volte? Sì, salvo che c'è un semplicissimo messaggio. Le persone vengono prima delle frontiere. Bisogna rispettare questo, sarà un flash mob che ha un'unica frase su cui focalizzarsi e l'unico messaggio è quello che ci interessa. Il rispetto ai diritti umani, il rispetto delle persone, il rispetto della dignità delle persone perché le persone possano essere considerate tali fino in fondo. Presentato a Palazzo delle Aquile a Palermo il protocollo d'intesa per la costituzione di gruppi interistituzionali integrati che possano farsi carico dei casi segnalati dalle autorità giudiziarie di minori non accompagnati. Firmatari del protocollo sono il Comune di Palermo, l'Asp 6 e l'ufficio scolastico regionale. È stato presentato a Palazzo delle Aquile a Palermo il protocollo d'intesa per la costituzione di gruppi interistituzionali integrati che possano farsi carico dei casi segnalati dalle autorità giudiziarie. Firmatari del protocollo sono il Comune di Palermo, l'Asp 6 di Palermo e l'ufficio scolastico regionale. Hanno partecipato all'incontro tra gli altri anche il sindaco Lelui Corlando, l'assessore alla cittadinanza sociale Giuseppe Mattina, il presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo Francesco Micela, il procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Palermo Maria Vittoria Randazzo, il commissario dell'Asp 6 Antonino Candela e il garante per l'infanzia e l'adolescenza Lino D'Andrea. La proposta operativa è il frutto del lavoro realizzato dal tavolo tecnico istituito su mandato del Tribunale dei minorenni e della procura presso il Tribunale dei minorenni, in seguito alla conferenza dei servizi promossa dall'autorità giudiziaria minorile in data 20 novembre 2017, proprio in occasione della giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, in materia di condizione dell'infanzia e dell'adolescenza a Palermo e integrazione dei servizi sociosanitari. L'esigenza manifestata e condivisa durante la conferenza dei servizi è stata quella di ottimizzare nella città di Palermo l'integrazione dei servizi sociali, sanitari e scolastici, per favorire con un intervento coordinato ed integrato la presa in carico globale e interistituzionale dei minori e delle famiglie in situazioni di fragilità e disagio. Il sindaco ha sottolineato che si tratta di un cambio strategico di attenzione, mettiamo in pratica, ha detto, un modello già collaudato di collaborazione tra le istituzioni, partendo dall'idea che siano queste tutta la comunità a dover svolgere un ruolo attivo per l'inclusione e il reinserimento sociale di tutti i giovani e di tutte le famiglie in difficoltà. I punti salienti del protocollo sono la salvaguardia dell'unitarietà-globalità del funzionamento psicosocio-biologico del minore, la valorizzazione dei contesti di vita in cui il minore sperimenta la sua esistenza, dunque famiglia, scuola e territorio, favorire il raccordo tra servizi e autorità giudiziaria nel rispetto dei tempi di vita del minore e infine ottimizzare i tempi di lavoro delle risorse professionali messe a disposizione da ciascun ente di appartenenza come comune, sanità e scuola. GESAP dal 1 luglio dopo più di 35 anni, niente più pulmino sociale per il trasporto dei dipendenti da casa all'aeroporto. La Filte dice di no, col trasporto pubblico ci saranno difficoltà e ritardi, una giornata di lavoro durerà 12 ore. I lavoratori della GESAP in stato di agitazione contro i tagli che coinvolgono ancora una volta la base e non toccano le posizioni apicali. Il motivo della protesta è la decisione della società aeroportuale di rimuovere il servizio in pullman che garantiva il trasporto dei dipendenti dalla città di Palermo a Punta Raisi e viceversa attraverso una procedura che durava da oltre 35 anni. Una decisione presa in modo unilaterale dall'azienda che la Filte CGL contesta. Si manifesta per l'annesima volta un mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su decisioni che coinvolgono in modo sostanziale la vita lavorativa e privata ai lavoratori senza passare dal confronto col tavolo sindacale di Chiara Fabio Lomonaco, coordinatore Filte CGL Aeroporto. Al posto del pulmino sociale, dal 1 luglio i lavoratori che utilizzavano il servizio affidato a una ditta privata con un bando sono stati invitati ad utilizzare il trasporto pubblico. L'azienda sosterrà gli abbonamenti con la società di trasporti, presti e comandè che fa il servizio navetta per l'aeroporto Falcone Borsellino. La società, aggiunge Lomonaco, non ha tenuto in considerazione le difficoltà dei lavoratori, gli orari del servizio pubblico non coincidono con le turnazioni operative, ci saranno difficoltà oggettive nel passaggio di consegne ai colleghi che montano o che smontano dal turno. In particolare il cambio danneggia chi fa o finisce il turno di notte. Il trasporto pubblico fa fermata all'interno del centro urbano dove non ci sono possibilità sicure di parcheggio o di utilizzo di mezzi di trasporto alternativi. Il mezzo sociale continua Lomonaco al momento, fa fermate sull'asse viario di Viale Regione Siciliana che è sicuramente più accessibile per i lavoratori e fa quattro viaggi collegati a diversi turni di lavoro. Per non parlare dei ritardi che inevitabilmente aumenteranno e verranno addebitati a noi, mentre prima se ne faceva carico l'azienda. Saremmo destinati a scendere da casa due ore prima, adesso la nostra giornata di lavoro durerà 12 ore. Finora le trattative con la GESAP hanno dato esito negativo, da qui lo stato di agitazione. I lavoratori chiedono che venga ripristinato il vecchio servizio. In altri aeroporti ubicati lontano dai centri urbani non solo tale servizio è previsto, ma la società di gestione coinvolge attraverso una piccola partecipazione economica le altre società dello stesso sito produttivo, prosegue Lomonaco. E teniamo a ricordare inoltre che la società aveva firmato un accordo per tutelare gli ex lavoratori GESAP passati a GH e quali al momento stanno perdendo diritto al servizio di trasporto. Registriamo ancora una volta l'indisponibilità dell'azienda a verbalizzare gli incontri nonostante uno stato di agitazione e una procedura di raffreddamento in corso. Dopo il grave incidente che ha visto un autobus andare letteralmente in fiamme a Borgo Nuovo a Palermo la consigliera comunale Sabrina Figuccia si è recata in prima persona a piazzale John Lennon per verificare le condizioni del parco automezzi dell'AMAT. Inoltre ha un'interrogazione al sindaco Orlando per capire cosa intenda fare rispetto alla vetustà dei mezzi pubblici in circolazione in modo da garantire i dovuti standard di sicurezza per lavoratori e per passeggeri. Un autobus dell'AMAT è andato in fiamme, è accaduto in via Tindari nel quartiere di Borgo Nuovo fra lo suppore e il panico dei passeggeri. Il vano motore del mezzo è iniziato a sputare fiamme avvolgendo tutta la parte posteriore. Considerata la vetustà del parco automezzi AMAT le non floride condizioni aziendali ha dichiarato la consigliera Sabrina Figuccia che nella giornata di ieri si è recata al nodo Lennon-Giotto per verificare le condizioni della flotta in circolazione qualche preoccupazione per gli autisti e dei cittadini rimane. Siamo solo all'inizio del caldo torrido estivo che come sappiamo a Palermo sa raggiungere temperature elevatissime ed è già esplosa una bomba, una vera e propria bomba perché un autobus che prende fiamme altro non è che una bomba che mette in pericolo i residenti, gli utenti degli autobus, i lavoratori. Hanno bisogno di tutte le nostre tutele, proprio per questo già ieri ho inostrato un'interrogazione al sindaco per capire cosa intende fare rispetto alla vetustà di questi mezzi e allo stato di assoluta mancanza di sicurezza che abbiamo registrato oggi. Ma il sindaco risponde? Contestualmente, proprio perché spesso il sindaco fa, come si dice, orecchie da mercante in questi casi ho mandato la stessa nota anche al prefetto, alla questura e al comandante della polizia municipale perché l'articolo 79 del codice della strada entra nel merito anche dello stato di salute di queste autovetture. Anche la città di Bagheria è protagonista nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 di Manifesta 12, la Biennale di Arte Contemporanea in programma nel capoluogo siciliano fino a novembre grazie ad un prestigioso evento collaterale presentato dall'archivio Ignazio Moncada ed organizzato in collaborazione con la Fondazione Sicilia, il Museo Guttuso di Bagheria e il Museo Civico di Castelbuono. Vediamo. Anche la città di Bagheria è protagonista nell'anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 di Manifesta 12, la Biennale di Arte Contemporanea in programma nel capoluogo siciliano fino a novembre grazie ad un prestigioso evento collaterale presentato dall'archivio Ignazio Moncada ed organizzato in collaborazione con la Fondazione Sicilia, il Museo Guttuso di Bagheria e il Museo Civico di Castelbuono. Il grande progetto dedicato ad Ignazio Moncada attraverso Palermo parte dal capoluogo siciliano e tocca oltre che Castelbuono anche la città delle ville, Bagheria dove Moncada è protagonista con la Stanza dell'Irequieto a Villa Trabbia e con le rappresentazioni al Museo Guttuso. La Stanza dell'Irequieto nella settecentesca e privata Villa Trabbia è stata realizzata nel 1995 in ceramica policroma. Al Museo Guttuso sono ospitate alcune opere ed un'installazione in particolare oltre all'opera Archeologia Stratte del 79 già inclusa nella collezione permanente saranno esposte al piano terra tre grandi tele del ciclo Le Rappresentazioni produzione del 2000 dedicata alle metamorfosi del mito e la scultura in ceramica Il Pallottoliere. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti oltre che l'assessore alla cultura del comune di Bagheria, Romina Iello anche il presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore lo storico d'arte Sergio Troisi, Laura Barreca, direttrice del Museo Civico di Castelbuono e Ruggero Moncada di Paternò, figlio dell'artista e direttore dell'archivio. Desidero ringraziare il presidente dell'archivio Moncada che ha scelto quella che in qualche modo è anche la sua città. Lo ringrazio per averla inserita in questo percorso di arte contemporanea perché coinvolge non solo diversi enti ed istituzioni ma soprattutto diversi territori mettendoli in comunicazione così l'assessore Iello che poi ha sottolineato. Questo è il merito di questa idea che spinge il visitatore a girare il territorio attraverso la visita di questo ciclo dietro il quale c'è un filo logico di relazione. Abbiamo già un'altra opera del maestro a Villa Cattolica e questa presenza è molto importante per noi perché mostra come il Museo Guttuso non sia solo il grande Renato Guttuso ma come sia scrigno di tanti altri artisti contemporanei. È un affascinante percorso, ha aggiunto Ruggero Moncada di Paternò che parte da Palermo e si spinge fino a Bagheria e Castelbuono alla scoperta delle opere realizzate in queste due infaticabili esplorazioni di sempre nuovi linguaggi. L'associazione benefica Alipervolare, presieduta dal cantautore palermitano Rino Martinez è sempre in fermento nell'organizzazione di serate ed eventi dedicati ai più bisognosi ma per farlo ha bisogno appunto dell'aiuto di tutti. Vediamo. Le iniziative sono sempre legate alla mia attività soprattutto artistica appelli che facciamo attraverso i social appunto sto realizzando sia a Carini che altrove alcuni concerti che ci permettono di poter raccogliere quei fondi minimi che ci consentono di poter dare sostanzialmente aiuto per esempio noi stiamo operando a favore di Hannan la ragazza del Marocco che abbiamo qui da un anno e mezzo oggi vive al centrovaldese, grazie a Dio sta molto bene in questo luogo però aspetta il trapianto di rene noi siamo fieri di avere accanto a noi Hannan stiamo pensando a Pauline Dindè la ragazza di 46 anni che è con il cancro in faccia sta arrivando proprio in questo periodo a Sincleb che ha purtroppo una brutta tubercolosi molto rara alle osse, ai polmoni stiamo pensando anche di aiutare nonno Nino Mariano facendo un appello specifico affinché non lo debbano sfrattare per fare tutto questo noi abbiamo bisogno del sostegno di tanta gente allora approfitto di questa opportunità che mi state dando per dire che se i comuni, se le parrocchie, se i centri di aggregazioni eventualmente ritenessero opportuno poter realizzare degli incontri con dei concerti dove possiamo ecco dare la possibilità da lì per volare quindi a questa associazione di potersi sostentare, sostenere eccetera fatelo vi lascerò quindi un numero di telefono al quale poterci contattare eccetera Antonella Rizzo, Luigi Valenti, io stesso, Rino Martinez, Andrea Martinez coloro i quali diciamo hanno delle responsabilità legate alle comunicazioni potranno rispondervi e potremo quest'estate anche poter metterci d'accordo di qua alla fine dell'anno e poter fare tutta una serie di incontri ripeto sia nelle parrocchie, tante le parrocchie che sono in Sicilia anche in giro per l'Italia qualora questo appello fosse raccolto in giro per l'Italia perché noi non abbiamo nessun tipo di sostegno da parte delle istituzioni zero, nessuno ci ha mai dato sostegno per cui siamo costretti a doverci inventare ogni qualvolta ci sono delle urgenze tutta una serie di attività che ci permettono di raccogliere fondi non ultimo è stato Al Ipervolare in France con l'aiuto anche di Mediolanum con l'aiuto anche di tanti artisti che ci hanno aiutato tra questi ringrazio Totietto Tino i tre terzi, Gino Carista, Ficarra, Rossella Leone che per me è diventata una delle figure pregnanti più incisive, più forti come testimoni di Al Ipervolare ecco quindi ascoltate questo appello chiamateci io verrò a fare uno spettacolo per voi ma lo spettacolo è indirizzato soprattutto ed essenzialmente a sostenere le cause di solidarietà di Al Ipervolare è tutto, grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alla seconda edizione